Scusami Guarda Scusami Ciao a tutti Ok Siamo bene così Silenzioso, grazie Io l'ho messa Scusami Bravissima Guarda, io sono tutta nel mondo 3-2 noi dobbiamo fare ciao a tutti e a tutte Tu non mi hai fatto questa roba a tutti No, ciao a tutte e a tutti Ciao a tutti e a tutti Puoi lanciare un pochino più nella camera e inclinarla Così da sotto parecce a noi Ma non è tanto Guarda che continuate Ciao a tutte e a tutti Non era pronta Ma è arrivata in seduta Avvenziamo Ciao a tutte e a tutti Benvenuti e bentornati in un nuovo video Come vedete Vi ho portato due persone che da tempo non trovavamo Volete le presentare? Sì Noi siamo le best friends di La Ci siamo detto da seguire Così Vabbè Francesca Eccola qua La Giulix La Giulix Che ormai non è la Giulia Che non è la Giulia È la Giulia Tu e sei la Francia Mi tanto però ti dico la Fran La Fran Mi tanto faccio la Fran Vabbè la Fran è la Giulix Eccoci qui Lo so tutto tranne che di Milano ma mi esce questo Accentino qua Ma oggi siamo qui per parlare di Corea Vi è mancata la Corea? Quanti giorni sono che sono tornata? Due settimane Già Ma che senti? È quasi una settimana Ho portato un po' di snack Ve l'avevo detto E quindi oggi le mie amiche sono qui per assaggiare Io ho un po' paura Sono sincera Sì Soprattutto dall'odorino Che arriva capito È particolare Abbastanza Eh no perché per me ormai è così la normalità Però guardate eh Non mi sono spinta troppo in là Potevo prendere cose molto più Nel senso Queste sono tutte buone secondo me Cioè se dovessi vivellino Come fai? Cioè pari le immagini Io non capisco neanche dalle immagini Ma dai Questo non capisci No Ti giuro Ah no questo si Ah vabbè pizza Questo mi fa paura Quella è bellissima La melanzana ti posso dire? Eh non è una melanzana Quindi è una melanzana Questo è goguma Quindi patata dolce Ah No però è una melanzana dai È una patata dolce La Roma è una melanzana Vabbè visto che abbiamo spoilerato questo Iniziamo con questo Patatine Alla Patata dolce La melanzana Io non dico niente Dai apro io però Tutte cose che ho già sentato Guardate apro Voglio vedere secondo il gusto Allora Vediamo Vediamo Ecco Sa proprio di patata Ma che sai Ma che sai Ma che patata Ma che senti Sì Ma cosa ti sale Appena un vuoi Patata Non senti qualcosa No devo risentire Io vedo Vabbè io ne vi ho due Vabbè intanto prendi Non lo so Che patata Oh la classica patata Eh non senti tipo una glassa Una cosa dolcina No Perché questa è una cosa ricorrente Io ne ho mettato due in bocca Perché Vabbè fai come ti pare No una le metto Ma sono dolci Mmmmm ma sono dolcine Ma buone Dammi la nata Mi pare che avevano paura che portavo cose schifose E' buonissime Mi piacciono Però Io ce la faccio a mangiare Davvero Come no È già la terza No Però ti dico la verità Cioè nel senso Non capisco il sapore Non mi piace Sono zucchero Avete mangiato patata dolce No No Sì ma avete gusto di patata dolce Ce l'ha Mi sento quella che è un po' appiccicosina Quindi Prego caramellata C'è stai amica Questo che è stufa Perché c'è sti cosetti sopra E' quelli questi miei dei sesamo neri Eccoli Da quanto è il voto? Da 1 a 5 5 Ma io ti dirò un 4 io a mollo Dai Sì Sì Ma è buono No ma io scegli Ah sì è vero Ma sì non hai scelto Sceglierei questo Eh ti giuro avrei scelto la stessa cosa Allora scegliere te è un buonissime pollo E' la tua scelta Queste che so Vuol dire pollo Si ma questo pollo mi sembra un po' tipo Piccante Piccante Si quindi sarà pollo Non lo so perché io non leggo il coreano Lo leggo io Fammi vedere cosa si è scritta Sacani picc Vuol dire pollo piccante Eh veniamo Io non li ho mai presi ma mi erano consigliate Ma si cuociono? Che cosa? Ah io ho chiesto un pollo No ma solo un pochettino Ma l'experience è veramente più bella Femmine poi vanno messi qua dentro Non so perché Ah queste Pegherini a forma di cossa Sono a forma di coscietta No Guardi Oddio Eh ma mi spezzano Vedo una coscietta Siete pronte? Sì Ma che cos'è però? Posso sapere prima È un snack che sta Il gusto di pollo Il profumo Mmm È buona Mmm Buona Bene è piccantissima No piccante è una cosa di pollo Arriva un piccantino Mmm Ma ne vogliono altre due Ma non c'è tanto piccante dopo Mmm Un pochino Per me Vabbè ti mangiamo Ma ragazzi ma questi segnate quelli eh Ad esempio questi li mangerei come snack salato Cioè se c'ho voglia di salato Quello Me lo leva la voglia Ma la polverina li faccio Sì quella qua sopra Questa è buonissima Se io tessi vuoti per me sarebbe 5 5 No per me 3 Nooo Sì mi piaccio più patatina Ma preferisco quelle Dai questa ne prendo un'altra Molto buona Questa lasciala qui Le cose che lasci a casa Che lasci a casa No ma come lo devo prendere Vabbè io me li vado a prendere quando torno Può anche richiudere Si aiuto Ma chi aiuto Ma chi aiuto Una volta caldo Ok adesso scegli fra No mo Julix Perché quella era la mia scelta Io assaggerei qualcosa e si mangia tipo quelli Vuoi ciappaghetti Ciappaghetti Eccoli qua Questi ragazzi li conoscete Aspetta devo fare come youtuber anni 2000 Vedete Dall'odore secondo te che cosa c'è dentro Non lo diamo eh Se no mi condizioni Carne Ecco Non lo discutiamo Non sai che secondo me cosa c'è mamma Secondo me c'è brodo I funghi, i funghetti tipo No pure i funghi Vabbè ci sarà Sono fagioli questi Tipo tipo io La salsa di ricca Ma è vero Ho riconosciuta subito Ciappaghetti è la salsa di fagioli Proviamo un po' Si ma non sto riuscendo ai denti Mi fa schifo col mangi Ha gommettissimo qualcosa Con la bocca di melo I denti mi fa schifo che toccano Sono un po' fiscitini però Ma non è vero Vuoi dire assaggi che già ti mangi queste cose no? Si infatti Che cassa già fa Ma io comunque devo rendervi partecipi dell'experience Fra ma sto giocavo di usare i denti Avete visto come bagnava? Ecco proprio così Ti piace? È amara Mamma mia Ma non è amara No amara no però Che dici? È insipida secondo me Sa di terra No secondo me è insipida Insipida Si sa di poco È amara Ma che dici? Tipo di terra Si l'ho visato di poco Come se avessi mai mangiato a terra Però Cioè non è saporita Ma aspettavo più saporita Cioè se tu pensi che queste cose ci di vicinare penso no? E poi ti lascio il retro gusto Amaro Ti lascio il retro gusto un po' strano No 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 È perché quando cuoci la salsa la bruciacchiano tipo capito? Ok Ma tu dove mangi i ceceni con questa cosa no? Sì questi quai ciapaggetti io non so i miei preferiti eh Però li vanno quindi ve li ho portati Di solito preferisco questi Assaggiamoli dai Assaggiamoli dai Questi qua i bullduck carbonara Come carbonara? Vedi allora che c'era dopo Bullduck carbonara Questo è gusto carbonara Guarda 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 Quanto eravamo a 5? Sì, sono buoni vero? No, sono fantastici Senti sterbetta che hanno, che ti fa... Non ti piace? Non abbiamo niente da bere Però ti piace il piccante? A me piace il saponino Sì, io adesso ti ho detto tutta la bustina me la puoi dosare A volte ci stanno dei giorni che magari non voglio proprio... Anche perché non c'ha sapore Cioè nel senso carbo che ho assaggiato una cosa al peperoncino No, è buono, a me che questo mi ha fatto ora 5 per me Monna, che ragazzi Che ragazzi No, mica no Non vanno spiegati Quindi tu hai detto 5 Cioè se dovessi immaginare Mangiammi una cosa piccante direi 3 Però se devo prenderlo E pensare a carbonara ti dico 1 Vabbè ma non la devi prendere ma è una carbonara Non credo che vogliano quella carbonara Vabbè comunque non c'ha sapore Quindi 3 Ok Adesso assaggio Eh no, lasciali dopo Assaggio questi qua Questi mi faceva troppo ridere La nera italiana Voglio assaggiare queste al gusto pizza Non so di cosa posso non sapere Teoricamente di pizza Eh però adesso quelle al gusto pizza di solito sanno l'origano Secondo me qua non c'è l'origano Perché non... Questi mai prese ve lo dico Ma poi cos'è tipo riso soffiato Focus No credo siano tipo le... Focus Ma perchè sono dolci Sono di ketchup Sono di ketchup diluitissimo tipo Però sono buone Le patate di loro sono dolci Ma questa non è anche l'acqua No, ma senti che staglie Salsa con i dolci del black Brava È vero Buona No, questa è l'altra Vole quella Voto 5 2 Vai No, ma non lo scelgo io però eh Questa roba Eh, pure a me non lo scelgo No, questa è la fine E allora che vuoi Aspetta, fermo Mia non ho scelto quello No, io voglio queste Queste ti faranno sentire male Malissimo I pretzel Questi qua sono cheddar Cheese A me non piacciono i pretzel Ma neanche a me prima di conoscere questi Ma sono proprio i pretzel pretzel No, sono pezzetti, guarda Tutti impanati in questa polverina L'odore fa tantissimo di formato Sì Questi sono una roba Ma no, sì Ma più chimico Sì, sì Via, cheers Ah, è duro Sembrano i crostini quelli che vanno nel brodo Sì, fanno troppo di formato No, ma a me piacciono Se finisci una pacca E neanche te ne sei accorta Non ti piace il formaggio? È piccola A chi non piace il formaggio no No, vabbè Fanno troppo si è da roto Ma è uno spettacolo Cinque Mmm, quattro Ah, me non vuole niente piacciono No, ho detto Sono buoni, però fanno tanto di formaggio E io quello Ho fatto sti cosi che... Vedero Finora ho tutto sti ciappoghe Vuoi questo? È troppo bello Carine Sono mandorle Con honey butter Eccole qua Questi ci stanno di tutti i gusti Voglio prendere più le wasabi però No, dovranno Mamma mia Ma io dirò Prendi 3 2 1 Cacchio A me non mi piace Ma ti posso dire che mi piacciono? È dolcissimo A me non mi piace Buono Che prallinata strana Mmm, sono favolose No, buono Questa le amo Cinque Proprio quelle preferite di tutto Cinque Cinque Io pensavo di farlo Questa è buonissima Ah, ma sono favolose No, c'hanno il sapore di miele Si sente, è buonissimo Buona Ah, posso scegliere? Quello non lo posso scegliere, ho detto Questo Mi sembra una cosa molto strana Che non capisco Sì, ma questo è mio A me mi sembrano sempre i noodles Eh, ma non vanno cotti? No Questi sono quelli secchi Prima mio, sì Questo è bbq flavor Ho preso Vedete E poi c'è un ciccio con martellino Perché questo Prima lo schiacci Poi rimangono i pezzetti No, voglio fare io Sì No, no, una parita Basta Ti dobbiamo dare la martellata Eh, sono una botta secca Mi si agghiaccio Se stai molto male, puoi avere Comunque si serve quella secca Perché a volte si usano, no? Poi vedi c'è la bustina No, non mettiamo No, sì Prima assaggiamo sempre Ma hai un gusto bbq Ma questa non stai niente Ma è natura è Nooo, ma è fatto così Non stai niente così a motta Non c'è pasta cruda? Io in Corea La vorrei sbattuta in acqua calda Per due minuti Mi pure Abbiamo sbattuta Ma non è cotta Ma in Italia questa è pasta cruda? No No, io non mi spiera quella Lì a volte la mettono pure al fornetto Quindi la fai un po' crispire Tu si sente la salsa di bbq E' sempre questo lore di bbq No, è stato di ospedale No, dopo un po' diventa piacevole questo lore di bbq La cosa di ospedale? No Di azienda ospedaliera No che c'è No, era mio quel pezzo L'avevo scritto viva Ma l'ho spettando Ma non c'entra Boni Un po' male, sai? Mi avevo fidanzato E' un pazzo Mi avevo dato una lira Ma ti dirò Non c'avevo paura Però Certo Gli dotteremo Però è spezzioso Si Mangia quasi tutta la stessa sapore Questa roba Non lo so C'è, quello che riguarda tipo queste cosette Si C'è, sono tutto tipo di spezie Cioè, secondo me loro usano tanto il marketing Di, 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 di cose Di colore Di colore Ma questa poi è la roba varia tutta questa magnassa Questa roba No, perché in Asia si usa mettere tutto in un piatto Ci sta piccante Dolcino, capito? Oh, capito? Ma non ci capisci niente Una certa una passa già questi al cetriolo uovo Cioè, poi capisci? Non capisci? Non capisci che ancora poi l'Italia Si sbraga nel mondo l'Italia Di gin ramyon Ma se c'è sta il jalapeno L'uovo Jalapeno Alapeno Uovo No, ma quella è un'immagine illustrativa Mmm Questo è un altro dei miei brevi Quando fai il picnic Sulla river Ma sa di cipolla No, di aglio Tu mettitelo in bocca Vai, vai, vai Ecco qua Non fa facce, non fa L'anima dell'aglio Tu voglio anche una succhiata alla coreana Bravissima Wow Ma non ti è sbampata d'aglio? Mamma mia Ti piacciono queste? Davvero? Comunque siete strane Questi super agliosi Mamma mia mamma no Vai con la succiata No, è più Oddio Cioè ci sarà da faccia Come tu torni Francia va pianto Ma io no Come fanno ancora a mangiare Non sporcarsi il make up Prima di iniziare questo video erano stomacate broke Ecco qua Ecco qua Ecco qua Cioè anche questo Questo è proprio tutto peperoncino Quella è della bull duck Questo è tutto peperoncino Quella è un po' più Cioè questo Però se non ti piace l'aglio Quella è allucinante Eh no se non ti piace l'aglio Ma se io non l'avevo mai notato Me l'hai fatto notare tu Che cosa l'aglio No dai L'aglio si sente proprio forte Già dall'utore si sente Allora ho bisogno di un settino di socio Ragazzi guarda te gli ho portato Il socio Questa è la cosa che mi fa più paura Cioè nella fiaschetta questa di plastica Che io ho bello Ecco qui che io Giulia E' vera l'unica No non hai capito Gli ho detto senti La cucetta ma lasci Ma faccio in locale No ma lo sai che gli ho detto prima Quando mi ha fatto detto Ma che è acqua micellare Che io ho detto Ma l'odore non sa di niente Questo è quello senza È in odore Senza gusto Guardate gli occhi di Chloe Vedendo tutto sto scibo No ti è quello no Mi sento molto io il venerdì sera Fuori ai locali Mi sento molto il sabato con Giulie Oh oh Ecco qui Ma siete pronti Facciamo un cenno Non toccate la plastica Dovete dire Dovete dire Jan 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 Io sapevo Ma grappa che è Sa di grappetta Sa di grappa Allora Sa di grappa Ma più Meno alcolica Tipo Ma fa schifo E io alcoli ci bevo tutti Cioè io non esco il sabato sera Preferisco rimanere sobria Se devo bere sta roba Questo è il preferito I coreani E quello senza gusto Poi ci stanno quelli Al limone Magari Poi prenderlo tipo al colpermo Al limone Se lo avevo a casa Però vedete Ha il suo gusto Ma che è No Ok Ma che è prima Aspetta Poi è un nuovo hobby Sarà Asciugatrice Seriale Non è che è il mio cabello No Si brucia Si brucia No Oddio quanto Mi stica Ora questi Ti si ripesa Oddio Aspetta un attimo Ora facciamo questi Guardate carini Oddio che ci trovo Un personaggio Se trovo questo Mi tengo io Troppo carino Ma no Questi Vedi che li puoi tagliare Ci puoi giocare Tipo con le carte Vedi Fai tipo Di flash Ok Mi ve l'ho portato A me ci piace il flash A me ci piace il flash Però se posso dirvi Il gusto Non ho idea Però loro hanno passi Ah vabbè È simile Quella con il colino Sì Però non so effettivamente Di cosa fa Si sa un po' di flash Ma guarda che carina Una ragostina Ti posso dire Che mi sa sempre Dessa roba Questi cosi De spezie Si chiamano Coreba Coreba Ma secondo te Ha un polimo Una balena Buone Asco ma La mandana manciata Oh sfizioni Oddio mio Questo sembra un mini pene Guarda questo qui Ma c'è una puntina di tenape Si E mi piace La cosa che Dentro sono vuoti Cioè fa st'effetto Un tranche Ma anche noi non ce l'abbiamo Sta roba Sfiziosa Io ti giuro Non ho mai presi Perché vedevo Le confezioni dei bambini Sono buoni Sono buoni Sì Comunque questi Invece Io gli do Un cinque Questi io li mangerei così Uno dietro l'altro Cinque Cinque Ora vi faccio provare questo Ok Il coffee coffee Questo l'ho preso Perché l'ho visto In un che dramma Che si chiama My demon È caffè Secondo me Sembra tipo I pocket coffee Guardate come sono fatte Sembrano come le pastiglie Stavo addio Un bel colpe a cossi Infatti fai così E te la prendi Ho manticola Ma è una caramella Ah ma sembra un alpe libe Questa Sì è una caramella Non lo so Il caffè si sente D'amore Sì Anch'io L'ho chiamato Anni alpe libe Al caffè È amore Vabbè mi piace il caffè Sì ma non l'hai scoppiato Dentro Ma non lo farò mai Ma ecco se è il caffè Dentro Ha fatto proprio Sì Guarda No Non so niente Non so niente Ti dico la verità Adesso non mi va Perché ho tutta la bocca Piena Questo lo portassi Io ho filanzato No Ma fa Corea Italia Italia Corea Non lo so Sicuro è un 5 Per chi piace il caffè Perché un alpe libe Ragà Totale Un alpe libe al caffè Mi prendi quel mio pacchettino Stupendo Che è super qui Ma poi Quelle Ah sì Andiamo tra l'altro Queste praticamente Erano le patatine Più Più belle E sono le più belle Perché sono molto quindi Ah sono le più pure Da aprire Perchè no le apri così No perché sai le patatine in Corea In Corea le apriono così Ecco che le sfonda Quest'atto Perché Le apriono così E le tengono A cacchettino Ah questo fa Lo patatine Ma poi lo chiedo al contrario Ah Queste sembrano più patatine Sa di forma di burro Senti Infatti è honey Sa di burro Mamma mia Mamma mia Allora Questi ci vanno pazzi Allora Stesso discorso C'è anche l'altro gusto Quattro formaggi Questo è quello classico Buonissime Buona Però stesso discorso Te e stomaco Lo do No Dei mangiare dolci Ok Non so snack salati Ragazzi Io ci provo sempre L'hai già sotto Dove questo Tre Questa 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 è un bacchino e mezzo Ora siete pronti a patto Forti Lo vorrei aprire da mezz'ora Chiudete gli occhi Io vi faccio vedere Alla tavola Questo è super famoso in Corea Si ubriagano Se lo mangiano sempre Ma che è? Ma che cos'è Un calamaro? Questa è seppia essiccata No te prego Pure la sartista Guarda che top Questa è Allora che costa di più eh Non dobbiamo essere Che costa di più Non so se perché Sì Questi quando si ubriagano Loro si mangiano sempre Il pesce secco Senti Puzza di pesce Ma è muscia È muscia Eh sì Oddio Ma il gusto più grande Perché già penso di amarlo Ok E' buonissimo Mi faccio una quintalata Non mi piace La santa francese È proprio di pesce È buono Sai cosa Ancora ho più di pesce Mamma mia Vedi Questo dopo l'ho mangiato io Ma questa Questa deve venire Più in Corea Allora Mamma È proprio che buono Ma poi io sta faccia Non sento se è piccante Vedi Non so se i soldi buttati È piccante o no? La senti piccante? Poco Pocchissimo Sì Ma è tipo soiola È seccata Quando piacete Tipo la soiola E la lasciate Tipo fuori dal frigo Per tre giorni Che si secca un po' La re Ma che cinque Amma è buonissima Lo amo Uno Meno di zero Allora ragazzi Vedo che avete gradito Adesso stavo a continuare Magna queste A me sono piaciute le box Con la dei snackini Ariosi dentro Queste Questo qui a me Patate dolce a me Tutto Mi riesco a tutto Trano i chappagetti A quanto pare No Tutto Quando sti cosi Quindi amiche mie Grazie per essere Stati con noi In questo video Mi sta toccando La chloe Mi sta toccando La mano Spero questo video Vi sia piaciuto No E niente ragazzi Sia stato divertente E niente ragazzi Niente Io quando vado in Corea La gamba è forte Nel bagaglio a mano Invece di vestiti Da maniato Mi porta una valigia da voda Soltanto per da maniato No io non me la sento No no Lei da qua ci parte Per farci Per l'arci Per l'arci No non me la sento Proprio Sono onesta Guarda Ti voglio bene Ma voglio andare a Marioni Ciao a tutti Grazie Ciao ciao